Il nuovo pacchetto di sanzioni che i paesi occidentali hanno annunciato contro la Russia è impressionante, ma non basta per fermare Mosca. Sono le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, nelle stesse ore in cui si intensificano i colloqui tra i leader dei vari paesi e vengono rafforzate le sanzioni contro la Russia, chiede che si faccia ancora maggiore pressione su Mosca. La federazione russa continua a condurre un'aggressione armata su vasta scala contro l'Ucraina. Questo secondo l'ultimo aggiornamento dello Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine. Gli sforzi principali degli occupanti, prosegue lo Stato Maggiore, si concentrano sui preparativi per l'operazione offensiva nell'Ucraina orientale. Il pacchetto di misure di sostegno dedicato alla famiglia, denominato Family Act, è divenuto legge ottenendo al Senato 193 voti a favore, 10 contrari e 15 astenuti. Tra questi ultimi il gruppo di Fratelli d'Italia, che aveva già annunciato la volontà di astenersi, mentre il senatore Mattia Crucioli, di alternativa, ha comunicato il suo voto contrario. Il provvedimento era stato approvato alla Camera il 28 novembre 2021. Il fine del Family Act è promuovere la genitorialità e la funzione educativa delle famiglie. Punta inoltre a contrastare la scarsa natalità e ad agevolare l'equilibrio tra vita privata e lavorativa, in particolare per il genere femminile. Possibili disagi nel mondo della sanità venerdì 8 aprile. Il sindacato Nursing Up ha infatti annunciato lo sciopero di infermieri e di tutto il personale sanitario non medico. Si fermeranno per l'intera giornata i lavoratori delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli enti della sanità pubblica italiana. La mobilitazione proseguirà poi fino al 13 aprile, con lo sciopero degli straordinari. Il sindacato annuncia battaglia finché non arriveranno le modifiche al contratto richieste, partendo dall'aumento degli stipendi. Gli analisti di Quacarelli e Simons hanno stilato la classifica delle migliori università del mondo, meglio nota come World University Ranking. In questa classifica l'Italia si posiziona settima, ma può freggiarsi del blasone di ospitare la prima università al mondo per studi classici e storia antica. Si tratta della Sapienza di Roma, tra le prime 10 università al mondo anche per l'archeologia. MIT e Harvard mantengono stabilmente il primato, primeggiando in 12 diverse categorie. Le migliori 10 per numero di piazzamenti in Italia sono l'Università di Bologna, la Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano, la Statale di Milano, l'Università di Padova, il Politecnico di Torino, l'Università di Pisa, la Cattolica del Sacro Cuore, Cafoscari a Venezia e l'Università Federico II di Napoli.